Titano è una luna di Saturno davvero interessante. Ha una massa pari ad un cinquantesimo di quella terrestre. L'ultima missione della sonda Cassini ha svelato che Titano ha una morfologia simile a quella terrestre ma con una superficie più livellata. La cosa curiosa di Titano è che invece di possedere laghi d'acqua sembra possedere laghi di metano e idrocarburi densi. Infatti le immagini inviate dalla sonda Cassini non hanno mostrato il classico riflesso che il Sole mostra su un liquido. Sembra che questi laghi siano come una poltiglia che ha riempito dei vecchi crateri da impatto. Attualmente il grande mistero di Titano, rimasto irrisolto, è la formazione della sua densa atmosfera.